allora rieccoci qua e per la prima ora di oggi il compito da fare già se lo siamo dati ieri cioè quello di terminare la migrazione la rifattorizzazione l'abbiamo chiamata dell'esercizio sul indovina il numero secondo il pattern model view controller solo per ricordare a che punto eravamo andando in ordine abbiamo dovuto leggermente modificare lo scheletro del programma main per il semplice motivo che era l'unico modo per poter dire alla classe controller quale fosse il modello su cui doveva lavorare quindi quale fosse la classe che conteneva i dati e l'algoritmo del gioco e l'unico modo per sapere qual è la classe controller la quale viene letta dall'fxml loader è modificare un po' l'fxml loader in modo da avere questa classe loader a cui chiedo essenzialmente due cose prima leggimi l'fxml e dopo dimmi chi è il tuo controller o qual è la classe controller distanziata tutto ciò per fare semplicemente questo set model in modo che modello e controller siano in comunicazione in comunicazione non equa non paritaria nel senso che il controller sa chi è il modello e quindi può chiamarne i metodi il modello non sa chi è il controller e non gliene frega niente e non gli deve interessare al modello non deve interessare chi è il controller e chi è la vista il modello deve essere puramente una parte algoritmica dati e algoritmi niente interfaccia utente niente logiche di interazione con l'utente quindi se vogliamo una verifica ce l'abbiamo dal fatto che la classe model non importa mai nulla dal package java fx cioè non sa nulla di java fx e infatti è quello che ci permetterà a questa classe volendo di essere anche richiamata in altri modi che non siano quelli interattivi al di là di questo avevamo iniziato già a riportare dentro il modello alcuni metodi di quelli che avvenivano nel controller e abbiamo cercato contestualmente di depurare il controller da quelli che erano gli aspetti algoritmi ci lasciandolo invece sugli aspetti più di interfaccia ad esempio sulla parte di inizio di nuova partita essenzialmente quello che c'è qua andava abbastanza bene abbiamo sostituito le istruzioni che c'erano con una chiamata a new game del modello rimane ancora da mettere a posto questo dis tentativi e dis.tmax che adesso non sono più ovviamente variabili del controller ma devono essere lette dal modello quindi non è più un dis tentativi ma sarà un model.get tentativi quindi questo valore non lo so più io controller ma ogni volta che ne ho bisogno lo devo chiedere al modello cerco di evitare nel controller di farmi delle copie mie di valore che ha già nel modello il valore giusto c'è la modello ogni volta che mi serve lo chiedo al modello non mi faccio una copia locale e qui anche nmax get nmax lo vado a pescare dal modello questo fatto di pescare dal modello queste che sembravano costanti ci serve perché nel testo esercizio parlavamo di possibili estensioni una delle quali era variare il livello di difficoltà quindi nmax e tmax non sono più costanti quindi ci sarà modo volendo in futuro di iniziare una nuova partita specificando il livello di difficoltà e quindi il controller dovrà poi di conseguenza sapere quali sono i tentativi legati a quel livello di difficoltà questo grosso modo è ciò che possiamo fare sul primo metodo endo il nuova partita e poi c'è la parte di più complessa diciamo di gestione del gioco del tentativo allora qui dobbiamo separare capire dove finisce l'interfaccia dove comincia l'algoritmo il compito del controller deve rimanere quello di gestire l'interazione con l'utente e che vuol dire acquisire i dati che l'utente ha inserito validarli fare tutti i controlli che servono poi all'inizio alla fine dovrà ottenere i risultati dal modello e visualizzare all'utente questi risultati quindi c'è una parte iniziale in cui acquisisco i dati di valido la parte finale in cui acquisisco i risultati dal modello e li mostro all'utente e nella parte centrale di fatto dovrò delegare il lavoro al modello quindi questi metodi di solito sono tutti strutturati in questo modo leggo i dati che mi servono controllo se sono validi se sì li passo oltre allora la parte in cui devo leggere il numero e verifico che sia effettivamente un intero che veniva fatto con questo cache qua sotto è continua a essere di pertinenza di responsabilità del controller io vedrei molto male un metodo tentativo model punto tentativo che ricevesse una string perché allora nella casella di testo ovviamente quando io faccio un get dove è andato textfield tentativo punto get text mi restituisce una stringa quella stringa contiene il tentativo dell'utente per pigrizia uno potrebbe dire va bene prendo questa stringa la passo al modello ecco questo sarebbe logicamente sbagliato perché la conversione da stringa a intero visto che quello noi sappiamo che deve essere un intero non si addice al modello che dovrebbe lavorare su dati puliti ricevere dati puliti e restituire dati puliti cioè noi cercheremo di fare in modo il più possibile che le interfacce del modello siano pulite cioè valori interi liste oggetti ma quasi mai stringhe vabbè dove serve un valore stringa va bene ci sta quasi sempre il più possibile adesso qua abbiamo un esercizio ancora molto semplice ma lavorare fare in modo che il modello lavori sempre con oggetti e mai con testo quindi se il modello deve restituire un elenco di valori restituisce una lista di oggetti non restituisce la stringa con dentro il two string concatenato degli oggetti da rappresentare se il modello deve segnalare un errore restituisce un codice di errore o un'eccezione non restituisce la stringa contenente il messaggio d'errore quello il lavoro di convertire l'informazione che c'è stato un errore in cosa visualizza per l'utente lo deciderà il controller il controller che deciderà se questo errore lo deve visualizzare stampando un messaggio se facendo diventare tutto rosso se facendo suonare una sirena fortissima oppure un errore che può gestire quindi semplicemente ignora l'azione dell'utente questo decide il controller il modello dice semplicemente quello che mi hai chiesto di fare non va bene un altro motivo per far sì che non sia il modello generare gli errori oppure restituire già le stringhe è la lingua cioè voi immaginate che questo giochino che stiamo facendo in italiano con il messaggio in italiano domani vogliamo farlo in francese allora l'ideale sarebbe che dovessimo mettere le mani solamente nella parte verso l'utente quindi controller è vista l'fxml lo dobbiamo toccare di sicuro e controller anche il modello perché mai le regole del gioco indovina il numero dovrebbero modificarsi se cambia la lingua del programma non ha senso che lo siano e quindi facciamo in modo di non farlo quindi mettiamoci dei paletti mettiamoci dei vincoli in modo da essere sicuri di non debordare il modello fa il modello quindi tutto ciò che è acquisizione dei dati dall'utente e validazione dei dati la fa correttamente il controller quindi questo lo lascio nel metodo del controller anche qua c'è il dato c'è se c'è verifico che contenga un numero se questo numero è valido lo posso verificare sempre qui con la differenza che ovviamente il valore massimo io controller non lo so e quindi nel momento in cui devo verificarlo lo posso chiedere di nuovamente il modello model.get nmax al posto di this .nmax tutta questa parte invece da qua in poi dove effettivamente vado a confrontare il numero inserito rispetto al numero segreto che non so io controller e il modello non mi dirà mai invece rimane dentro il modello ecco prima di vedere questa parte qui solo un veloce pensierino su questa linea 75 non minore di 1 or non maggiore del max io sta a dire l'ho già scritta tu l'ho già scritta qua no? allora in questo caso è un caso molto marginale però noi stiamo definendo una regola di validità di un dato ok adesso la regola di validità del dato significa semplicemente numero compreso tra 1 e max un domani questa se il gioco dovesse diventare più complicato la regola di validità del dato potrebbe essere diversa una delle estensioni possibili che vi proponevo è impossibile inserire due volte lo stesso numero allora questa regola di validità del dato diventerebbe il numero deve essere nel range corretto e non deve essere uguale al numero precedente allora cerchiamo di astrarre un pochino questo concetto definiamo un semplice metodo valido tentativo o valore valido int tentativo che semplicemente ritorni il valore booleano se il tentativo se il tentativo è maggiore o uguale a 1 e il tentativo minore o uguale di spunto numero massimo quindi deleghiamo questa funzioncina la verifica e poi usiamo questa funzione al posto di replicare questo codice quindi anziché riscrivere questo t minore di 1 dirò se non il valore valido di t allora stamperò tentativo fuori range in questo quadro mando un'eccezione e idem torno nel controller questo controllo diventa non più vado a vedere il range maggiore e minori ma model punto valore valido di tentativo if not se non è valido qui non si chiama tentativo si chiama num è molto più leggibile se il modello mi dice che quel numero non è un valore valido stampo un messaggio d'errore e nello stesso tempo ho nascosto sotto il tappeto lo sporco cioè ho nascosto in un metodo i dettagli della logica di validità del numero se dovessero diventare più complicati è lì nella sua funzioncina e non devo modificare in più punti modifichi in un punto solo quindi questo qua ovviamente prendiamo l'abitudine abbiamo fatto una funzione che non sia puramente un getter un setter documentiamola controlla se il tentativo fornito rispetta le regole formali del gioco cioè nel range cioè è nel range da 1 a nmax per questa versione le regole sono queste quindi questo è true se il tentativo è valido quindi scrivendo il javadoc vedete che tutte le volte che portiamo il mouse sulla chiamata la funzione salterà fuori la finestrella con la documentazione in questo modo cosa succede il controller prima di fare il tentativo chiede al modello ma questo valore è un valore valido oppure mi daresti errore tra l'altro è un controllo preventivo per cui se faccio bene questo controllo e se uso la stessa funzione questa eccezione qui non la sparerò mai cioè se il controller è furbo prima di chiamare la funzione tentativo chiamerà la funzione valore valido quella eccezione è messa lì solo di salvaguardia se per caso sbagliamo c'è un baco nel nostro controller che chiama quella funzione quando non dovrebbe quindi è diciamo così programmazione protettiva metto dei controlli anche per il caso che non dovrebbe succedere perché io non sono perfetto e quindi non so se poi davvero non succede ok a questo punto dicevamo il controller ha il valore sa che è valido e quindi prova a fare il tentativo moda il punto tentativo con questo numero allora la funzione tentativo cosa fa restituisce 0 se si è indovinato 1 se è troppo grande meno 1 se è troppo piccolo e dentro l'abbiamo l'abbiamo si incrementa il numero di tentativi incrementare il numero di tentativi adesso dovremmo anche gestire la fine partita di nuovo dobbiamo separare quello che è tutto mescolato dentro il controller separarlo in modo pulito dentro il modello ma per ora se il risultato è 0 se la variabile risultato è 0 vuol dire che l'utente ha vinto quindi if risultato uguale 0 dico all'utente che ha vinto quindi faccio questo pezzo qua di codice altrimenti se il risultato minore di 0 dirò che è troppo basso altrimenti togliamo il punto esclamativo sul troppo basso altrimenti ancora il terzo caso dirò che è troppo alto e questo semplicemente sulla valle del risultato poi dovrò anche capire se a valle di questo risultato la partita è finita oppure no perché la partita può essere finita se ho vinto può essere finita se ho perso cioè se il numero di risultati è arrivato al massimo questa informazione non la so e non vorrei fare io dentro il controller la verifica se il numero di tentativi è uguale al numero massimo di tentativi se model.gettentativi uguale model.gettmax perché quali vuoi che siano le regole del gioco magari diventano più complesse anche loro e quindi avrai un numero massimo di tentativi variabile a seconda dei bonus che prendi non lo so se la partita prima indovini in due tentativi allora hai tre tentativi in più per la volta successiva queste logiche le deciderà il model quindi dovrò avere dentro il modello qualche cosa che si accorga se l'utente ha vinto o perso e di conseguenza possa dire al controller cosa è successo e il controller lo interpreta e si comporta di conseguenza cioè stiamo andando verso un controller che via via non sa più le regole del gioco sa solo che il gioco è fatto di inserire numeri e allora come faccio ad accorgermi beh io ho due punti in cui mi accorgo se la partita è finita una è qua quando i tentativi possono essere arrivare al valore massimo l'altra è qua quando l'utente vince indovina ok allora in entrambi i casi la partita è finita quindi questo in game deve diventare falso perché da adesso in avanti la partita non si può più giocare perché l'hai vinta o l'hai persa quindi una cosa semplice da fare potrebbe essere nel caso in cui io vinca prima di fare il ritorno a zero dico che il gioco è finito nel caso invece in cui solamente nel caso in cui dopo che ho incrementato i tentativi mi accorgo che il tentativo che ho fatto era l'ultimo quindi nel caso in cui i tentativi sia uguali a t max allora anche qui la partita è finita giusto? questo è quanto basta al model per sapere che la partita è finita quindi l'unica cosa da fare non sarà più possibile chiamare la funzione tentativo vedete che altrimenti genera un'eccezione fino a quando non verrà chiamata la funzione new game nuovamente che rimetterà in game a true al modello questo basta ma questa informazione è sufficiente al controller per dire se sono ancora in game bene ma se non sono più in game devo gestire dal punto di vista dell'interazione la fine partita e quindi controllerà se per caso è true in game is in game se non sono più in gioco allora devo disattivare la partita è finita proprio se volessi potrei dire la frase hai perso non l'ho ancora scritta dovrei scriverla perché avrei scritto troppo basso troppo alto se poi mi accorgo che in game è falso tu hai sbagliato l'ultimo tentativo e hai perso quindi dovrei ancora aggiungere solamente nel caso in cui il risultato sia diverso da zero facciamoli stampare hai perso perché io arrivo qua sia che sia la partita finita con una vittoria o sconfitta nel caso di sconfitta me ne accorgo perché il risultato è diverso a zero altrimenti era una vittoria e basta cioè tutti questi controlli qua non ci sono più perché sono li abbiamo fatti dentro il modem l'unica cosa che dobbiamo fare a questo punto a fine partita queste operazioni qua chiudi la partita cioè rimodifica l'interfaccia utente in modo da disattivare i controlli di gioco e riattivare i controlli di partita tutto il resto non ci serve più quindi ho tra l'altro anche separato a livello di codice due funzioni che logicamente erano distinte ma prima nel codice erano mescolate quella di analisi della singola del tentativo e quella di analisi dello stato della partita cioè questo tentativo è andato a buon fine sì no alto basso punto separatamente la partita è finita sì o no e lo gestite separatamente mentre se andate a ripercorrere il codice precedente era tutto mescolato una serie di fanni dati allora vediamo se tutto questo lavoro che abbiamo fatto funziona quindi proviamo a riattivare il programma dovrebbe funzionare esattamente come prima quasi quindi attivo una nuova partita mi dice che ho 0 tentativi su 7 e provo a giocarla 50 troppo alto 25 troppo basso 37 troppo alto quindi tra 26 e 36 la metà è 31 troppo alto quindi siamo tra 26 e 30 28 troppo alto 26 e 27 ho vinto e giustamente questa parte si è disabilitata e si è riabilitato nuovamente il bottone nuova partita riclicco su nuova partita riparto da capo questa volta sbaglio volutamente e a un certo punto mi dice hai perso ah c'è un errore nel senso che il numero di tentativi è rimasto a 0 ci siamo dimenticati di aggiornarlo allora andiamo ad aggiornarlo c'è un errore e una mancanza nel senso che nella versione precedente quando perdo mi dice qual era il valore segreto ok allora correggere i tentativi è facile perché basta andare ad aggiornare txtcur ogni volta che viene fatto un tentativo quindi dentro rendo il prova se faccio il tentativo aggiorna il numero di tentativi cioè solo se sono arrivato qua se mi fermo prima perché il valore non era valido non lo incremento quindi in questo caso facendo i vari tentativi dovrebbe nuova partita aumentare questo numerino qua no? 7 dopo il settimo in cui mi dice la settima volta in cui mi dice troppo basso mi comunica che ho perso se volessimo anche in questo caso visualizzare qual era il valore da indovinare dovremmo chiedere al modello di dircelo aggiungere un get segreto come getter dis punto segreto e a questo punto il controller lo può stampare è chiaro che dobbiamo fidarci del controller che non bari e non lo stampi all'utente non lo faccia vedere all'utente subito all'inizio oppure a pagamento caro utente se inserisci 20 bitcoin ti faccio vedere la soluzione e dove lo devo far vedere? qua dove ho perso quindi qui posso aggiungere il messaggio di tipo il numero era segreto era due punti percento di barra n model punto get segreto punto e virgola allora formattiamolo in modo che si legga ok allora in questo caso mi dice qual era il numero segreto e quindi abbiamo ripristinato la funzionalità di prima ok nel controller non c'è più nulla che conosca l'algoritmo di gioco nel model non c'è più nulla che conosca l'interfaccia utente per cui se vogliamo possiamo dimenticarci dell'interfaccia java effects farsi un bel programmino che giochi e vinca da solo a questo gioco no? facciamo che il computer giochi contro te stesso in modo da provare con un non usiamo questo main grafico ma usiamo una procedura una classe di test del model la verifica che se siamo riusciti a separarli bene è se riusciamo col model senza controller a giocare una partita intera questo lo possiamo fare ad esempio creando una classe test model che abbia il suo main e che giochi effettivamente una partita intera con il modello poi questa classe che cosa farà? farà model model.newgame sto ottenendo un main di prova puramente un'applicazione off diciamo così console senza interazione utente che provi a giocare una partita può giocarla in modo stupido finché sono nel gioco dico che il numero è 7 e poi perdo e questo è un modo di giocare stampiamo print line il risultato questo è un giocatore particolarmente incapace che dice che è 7 il numero e per 7 volte consecutive il programma gli risponderà il numero troppo piccolo se invece anziché 7 scrivesse 77 il programma gli risponderà forse che è il numero troppo alto una volta su 100 avrà un po' di fortuna anche lui e il programma gli risponderà che è il numero esatto non sappiamo noi non abbiamo modo di forzare qual è il numero da indovinare però volendo potremmo invece rendere più intelligente questo algoritmo sapendo che ovviamente il numero dovrà essere compreso tra un minimo che era 1 e un massimo che è numero massimo e quindi il mio tentativo più logico sarà quello di prendere la media tra il minimo e il massimo se tra 1 e 100 come primo tentativo provo 50 50 perché in questo caso fa 1 più 100 è 101 diviso 2 fa 50.5 troncato 50 bene e a questo punto se per caso il risultato qui c'è l'intelligenza mia di giocatore se il risultato è minore di 0 se il numero è troppo piccolo il mio tentativo è troppo piccolo riduco il max vuol dire che il numero sarà tra min e il tentativo anzi meno 1 quindi il nuovo max sarà t meno 1 giusto? io ho detto 50 lui mi ha detto è piccolo no contrario scusate se è grande ci ho messo un po' a convincermi che stesse sbagliando se il programma mi dice è 50 è troppo grande allora il prossimo tentativo dovrò farlo tra 1 e 49 altrimenti il prossimo tentativo lo farò tra t più 1 e max quindi ogni volta ho questo intervallo da max a min ogni tentativo che faccio mi permette di o spostare il max se il tentativo che ho fatto era troppo grande o spostare il min se il tentativo che ho fatto era troppo piccolo allora in funzione del risultato aggiorno i limiti il mio intervallo e quindi farò un tentativo quando torno su nel while farò un tentativo t diverso adeguato agli intervalli che si sono cambiati adesso magari stampiamo qualcosa in più diciamo tra per cento di e per cento di provo per cento di quindi tra min e max provo t e alla fine mi darà il risultato vediamo cosa fa questo programma sbaglia tra uno e cento provo cinquanta tra cinquantuno e cento provo settantacinque mi dice sempre meno uno ma meno uno cosa vuol dire? che il numero è troppo piccolo ah c'è sempre 77 grazie t ah ecco così vinco per carità vedere zero e vedere scritto hai vinto non ha lo stesso impatto psicologico però noi sappiamo che zero vuol dire che abbiamo vinto con 95 riprovo 76 l'ho indovinato riprovo 57 l'ho indovinato e li indovino sempre le so tutte siamo riusciti a giocare le partite perdendo apposta o vincendo apposta senza mai usare l'interfaccia grafica usando il model che a questo punto è indipendente da chi lo sta controllando se lo stiamo controllando con un test model o se lo stiamo controllando con un controller di java effects ok quindi da adesso in avanti noi cercheremo sempre di agire in questo modo anzi di solito conviene soprattutto su problemi che siano un pochino più complessi dal punto di vista algoritmico partire dal modello cominciamo a risolvere il problema cominciamo a implementare la soluzione e per testarla ci facciamo un programmino di test che si è in grado di inserire i dati fare le prove e vedere se il risultato è corretto una volta che l'ho risolto lo aggancio all'interfaccia grafica ma questo diventa un lavoro quasi più in cui non serve più troppa intelligenza serve molta attenzione a mettere le cose nel posto giusto ok ecco vi aggiungerai ancora un ingrediente già che ci siamo su questo esercizio fatemi fare prima un commit per salvare il punto in cui siamo arrivati allora fate attenzione quando lavorate se aggiungete dei file nuovi allora se avete fatto un commit iniziale lavorate su quei file il git si accorge che sono aggiornati e ve li mette già in staging ma se avete creato un file nuovo in automatico non ve lo fa perché non è detto che questo file voi lo vogliate salvare nel repository quindi ricordatevi di farlo altrimenti rischiate di fare commit di tutto tranne gli ultimi file più recenti quindi basta aggiungerlo sotto e diciamo così soluzione con mvc funzionante e programma di test quindi facciamo il suo caro push adesso per mettere le cose in ordine no aspettate ho fatto la cosa sbagliata noi dove siamo noi abbiamo lavorato in un branch che si chiamava refactoring mvc che era sia separato rispetto a soluzioni in aula quindi abbiamo detto boh non facciamo casino se poi sbagliassimo tutto possiamo sempre tornare a soluzioni in aula no e e ricominciare da capo volendo adesso però siamo soddisfatti del risultato ci sembra che funzioni quindi questo branch refactoring non ci serve più o meglio vogliamo riportare queste modifiche nel branch soluzione ho detto nel branch master ma per ora facciamo solo nel branch soluzione come si fa? quindi noi avevamo un master che contiene solamente il testo da questo master io ho creato un branch un ramo soluzione su cui abbiamo fatto le prime versioni delle soluzioni in aula poi ieri abbiamo detto giochiamo con model view controller ma facciamolo in un ambiente separato quindi la soluzione in aula non è cambiata il contenuto del branch soluzione in aula tutto ciò che abbiamo fatto le modifiche che abbiamo fatto ieri e oggi sono finite solamente nel branch refactoring se io adesso volessi riportare queste modifiche anche dentro soluzioni in aula e abbandonare questo branch che mi era servito solamente per sperimentare lo faccio con un'operazione di fusione merge incorpora fondi le modifiche fatte di un branch all'interno di un altro branch per farlo mi devo portare nel branch ritorno su soluzioni in aula che è il branch che voglio fare andare avanti che voglio modificare a questo punto vedete che se torno in soluzioni in aula siamo tornati alla versione vecchia dove il model non c'è più o non c'era ancora dipende un po' come leggete il tempo e ci sono molti meno commit ma io a questo punto posso voler fondere all'interno di questo branch le modifiche che sono state fatte dentro un altro commit in particolare dentro un altro branch quindi posso fare un merge e lui mi dice sì ma cosa vuoi fondere qua dentro io voglio fondere questo qui mi fa l'elenco dei branch locali e l'elenco dei branch remoti cioè di cui ho fatto il push su GitHub io avendo appena fatto un push questi due sono allineati quindi è la stessa cosa infatti vedete il codice numerico esce 80F0B63 80F0B63 è la stessa cosa che io lo prenda dal remoto o che lo prenda dal locale quindi posso prendere tutte le modifiche che sono state fatte all'interno di questo branch e riportarle all'interno del branch attuale che è ancora soluzione in aula se va bene il merge avviene in modo indolore in questo caso di sicuro avviene in modo indolore perché il branch soluzione in aula non l'ho più toccato non ci ho più lavorato metti che invece il mio collaboratore avesse guardato questo branch e avesse detto no ma qui c'è un errore anche solo un errore di battitura lo correggo e allora avrebbe avanzato il branch soluzione in aula di un commit allora Git si sarebbe accorto che soluzione in aula ha dei file modificati la cui modifica è successiva alla divisione di due branch quindi attenzione non è detto che la fusione si possa fare perché il rischio è di sovrascrivere la correzione che è stata fatta sul branch principale allora Git è abbastanza intelligente le modifiche che sono compatibili cioè magari sono state fatte su file diversi lui le fa ma nel caso in cui lo stesso file sia stato modificato in modo incompatibile in due branch diversi si ferma e dice ti lascia le due copie dei file prima e dopo e dice mettili posto tu perché non può sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato e quindi ti lascia il progetto in uno stato da unire manualmente e poi fare un commit per dire ho fatto le modifiche sperate di non trovarvi in questo stato perché è abbastanza non è difficile però in Eclipse è abbastanza confusionale l'interfaccia per questa fase ma noi adesso siamo tranquilli perché il branch refactoring è esattamente un figlio di soluzioni in aula quindi farci il merge dentro dovrebbe avvenire senza problemi infatti lui dice che il tipo di merge che c'è stato è stato un fast forward semplicemente spostato avanti e adesso vediamo la history siamo ancora nel branch soluzioni in aula c'è scritto qua nel bigliettino giallo ma adesso soluzioni in aula contiene anche queste modifiche e questa doppia etichetta refactoring soluzioni in aula mi fa vedere che i due branch refactoring e soluzione sono allineati puntano allo stesso punto quindi ho reincorporato soluzioni in aula dentro refactoring volendo se volessi adesso potrei cancellare il branch refactoring non mi serve più e rimarrebbe una storia lineare nel branch soluzioni in aula fatta di vari passaggi oppure lo tengo tanto per riferimento mio è uguale di tutto questo c'è ancora un freccia 2 per dire che io sono avanti di due commit rispetto al remoto perché devo fare ancora un push di queste modifiche perché origin soluzione è ancora rimasta indietro quando faccio push anche origin soluzione si è portata qua quindi flusso di lavoro ci sono tanti flussi di lavoro possibili se vi leggete i libri su git ci sono capitoli interi su quali sono i flussi di lavoro supportati io oggi ho usato un comando che è il merge ci è un altro comando per riportare un branch dentro un altro che si chiama rebase la differenza in due parole è che il merge riporta tutti i commit del branch secondario dentro il primo e quindi vedo tutti i passi intermedi un rebase invece prende semplicemente solo l'ultima versione del branch e la applica sul branch primario quindi collassando in un commit solo tutto il lavoro che ho fatto dall'altra parte perché magari non voglio vedere i dettagli o non mi interessano più però come dicevo i flussi di lavoro basati su git sono tantissimi questo è uno dei più semplici ho un ramo principale che è l'applicazione che va avanti e da lì stacco dei rami secondari ogni volta che voglio fare una miglioria la faccio l'implemento la testo solo quando è testata e funzionante non quando è una versione intermedia ieri non mi sarei mai sognato di fare il merge con un programma metà funzionante metà no l'ho fatto oggi dopo che l'abbiamo testato insieme e non mi sono fatto problemi a cancellare del codice cioè nel controllo ad un certo punto ho cancellato 20 righe di codice o giù di lì che erano il codice precedente ok e se avessi fatto un passo far se avessi cancellato qualcosa di troppo allora l'abitudine è quella di dire sbagliata l'abitudine sbagliata sarebbe quella di dire ma no non lo cancello lo commento solo ok allora trovate anche gli esercizi che fate voi i programmi in cui c'è due righe di codice poi dieci righe di prove vecchie commentate poi altre due righe di codice eccetera eccetera alla fine non si capisce più niente allora io posso cancellare tranquillamente perché tanto le righe che sto cancellando ce le avevo in un commit precedente se non mi ricordo più ho cancellato qualcosa di troppo non mi ricordo più che cosa c'era vado a vederlo nel repository o torno indietro semplicemente faccio uno switch e mi fa tornare indietro la versione precedente quindi fate pure i commit tranquilli tanto sono nel vostro repository locale cancellate tanto basta tornare indietro al commit precedente che ritrovate ciò che eventualmente avete cancellato per sbaglio oppure le prove precedenti manteniamo sempre dei programmi puliti e la storia del programma ce la dà git non ce la dà i commenti che ci mettiamo codice commentato no è bene non averne ok allora l'altra cosa che volevo dirvi su questo esercizio adesso che ho incorporato una soluzione in aula visto che sto di nuovo pasticciando modificando mi risposto sul branch ritorno su refactoring che adesso sono identici no quindi non è cambiato nulla nel file però Eclipse sa che sto lavorando in un branch diverso quindi soluzione ci inserisco solamente no le versioni funzionanti c'era un ultimo passaggio no del modello model view controller c'era un meccanismo attraverso cui l'abbiamo accennato brevemente ieri attraverso cui il modello può segnalare alla vista direttamente senza coinvolgere il modello il controller senza coinvolgere il controller che qualche cosa è cambiato ricordate che c'erano nel disegnino quelle due frecce verso il basso in cui il modello diceva alla vista guarda che è cambiato qualche cosa e io vi ho accennato al fatto che questo si poteva fare in java fx usando le properties e i binding allora vediamolo in pratica in pratica noi cosa abbiamo abbiamo del lavoro di manovalanza che ad esempio è rappresentato da questa istruzione cioè che infatti prima avevo dimenticato perché questa istruzione che è messa qui ma è messa anche nella nuova partita abbiamo solo due handler qua quindi però l'abbiamo dovuto mettere in tutti e due gli handler è codice in cui il controller si deve ricordare ogni volta che chiamo un metodo del model in cui il numero di tentativi potrebbe essere cambiato il controller si deve ricordare di aggiornare l'interfaccia utente e quindi un lavoro in più che deve fare il controller interrogare continuamente il model ma dimmi questo valore e prendere questo valore schiaffarlo in interfaccia utente nella vista non possiamo noi vorremmo dire ci chiediamo se possiamo farlo dire al modello guarda caro modello tutte le volte che aggiorni questo valore dirlo alla vista o meglio dire alla vista di osservare in continuazione questo valore questo si può fare dicevo trasformando quella variabile in una property in java o facendo in modo che il modello esponga una property quindi il modello oltre che avere delle variabili che si possono interrogare normalmente con set get dove è il modello lo avevo chiuso io potrei decidere che questo numero di tentativi non sia semplicemente una variabile di tipo int ma sia una property nel senso di java effects cioè un valore che può essere osservato come faccio? è abbastanza semplice perché la dichiaro come integer property integer property è una classe che definisce una property che contiene un valore intero il valore di una integer property può essere sempre letto e scritto con get e set ma poi una proprietà può essere vincolata e svincolata in modo unidirezionale attraverso dei bind dell'operazione di binding che però non interessano al al model quindi noi dichiariamo questi tentativi non come int ma sì come integer property per il momento commento poi dopo la cancelliamo quindi è sempre un intero ma osservabile cosa cambia nel codice quasi nulla tranne quando cerchiamo di settare direttamente questa variabile dis.tentativi uguale a 0 non funziona più perché tentativi non è più un int vabbè diventerà dis.tentativi e .set di 0 cosa cambia uso il setter anziché l'uguale perché è un oggetto che può essere settato a un valore intero ma non è solo un intero cosa succede è che questo set oltre a modificare il valore della property aggiorna anche tutti i possibili osservatori che in questo momento erano interessati a vedere quel valore quindi a gratis questo valore viene propagato alle altre classi che fossero interessate questo era tentativi anche dis.tentativi più più vabbè non potrà essere scritto così diventerà set dis.tentativi .get più 1 non moriamo mica per fare questa modifica come sono le parentesi se non è troppo quindi prendo tentativi .get prendo il valore lo incremento di 1 e lo risetto a quella variabile e non posso usare più più come scorsiatoia pazienza e anche qua dis.tentativi dovrò sempre sostituirlo col get per prendere il valore e forse c'è un altro paio di punti questo get tentativi ah ecco lo devo togliere e finora ho una property quindi ho trasformato un int in una integer property giusto? facendo qualche piccolo ritocchino sull'aritmetica di quella variabile ma nulla di significativo adesso questa integral property è privata devo sì voglio che sia osservabile ma per rendere osservabile devo rendere pubblica devo pubblicarla in qualche modo rendere visibile ovviamente non rendo questo public perché non è la buona norma ma creo i metodi gli accessor method quindi il getter il setter è un metodo in più allora questo è il tipico lavoro che fa Eclipse vedete che c'è una voce in più che è comparsa da quando avete installato il plugin di FX Clips che dice genera i setter e getter java effects quindi per la variabile tentativi non mi fa vedere tutte le variabili private ma solo le property quelle che ho dichiarato come property giustamente e mi fa mi aggiunge chissà dove get tentativi set tentativi e un altro metodo in più che si chiama tentativi property che restituisce la property come oggetto quindi questo può restituire l'intero contenuto nella property può settare la property a un nuovo valore intero e questi due metodi fanno sì che la property dall'esterno sia invisibile la vedo semplicemente come una cosa che si chiama che è un int che si chiama tentativi questi sono gli stessi getter e setter che avevo prima come interfaccia come metodo non è cambiato nulla semplicemente dentro anziché settare una variabile intera fanno un get e un set sulla property e in più c'è quest'altro metodo che restituisce il reference alla property in quanto tale sulla quale puoi andare a fare il binding adesso noi il set lo possiamo anche togliere perché è una property che vogliamo in sola lettura quindi prima non ce l'avevamo il setter e quindi qui anche qui togliamolo allora fin qua il controller non si è accorto di nulla cioè è stato rosso non so se l'avete notato è stato rosso per un momento quando noi gli abbiamo tolto il getter e dice come faccio ma adesso quando gli abbiamo rimesso questo getter anche se fa una cosa diversa lo li continua a funzionare finora il programma non è cambiato nel suo comportamento salvo un pointer exception che non mi piace perché? ah qui stiamo facendo ancora test model 8 che chiama new model 29 ah beh certo certo perché questa è una property lo so dichiarata ma non inizializzata new integer property così no? no questa classe definisce una property e la prendiamo in veglia ok ok andiamo a prendere le sue sottoclassi questa qua ridono l'integer property e questa e la devo importare cosa dice? ok perché perché scusate è un'integer property e' un'integer property e' un'integer property qui è ancora astratta, questa è ancora astratta, questa è simple integral, eccolo qua che dimenticavo, simple. Ok, perché c'è una serie di classi astratte che definiscono le proprietà, poi ci sono le classi concrete che sono quelle che devi stanziare se non ridefinisci le tue. Quindi riproviamo, ok, programma non funziona ancora, avevo dimenticato di stanziare la classe concreta, perché come tutti gli oggetti non basta dichiarare il riferimento ma bisogna anche creare l'oggetto. Ricordatevi sempre di questo sito qua, falcauser.de dove ci sono tutte le classi organizzate gerarchicamente con tutti i link alla documentazione. Ok, funziona qua ma funzionerà di sicuro anche la versione grafica. Funziona nel senso che funziona uguale a prima, che non ho ancora fatto nulla di... Adesso quello che vorrei provare a fare è di rendere automatico l'aggiornamento del numero di tentativi. E questo lo faccio attraverso un binding, lo guardiamolo qui, c'è un package bindings che è una classe gigantesca, leggiamo la documentazione, così impariamo a imparare cose dalle documentazioni, non dalle slide. È una classe di aiuto che ha molte funzioni di utilità per creare dei semplici binding. E poi ti fa degli esempi su come poterlo fare. In realtà è possibile creare dei binding, cioè dei collegamenti tra più valori, semplicemente copiando un valore o anche facendo delle semplici operazioni aritmetiche. Allora, ciò che noi vogliamo fare nel controller è dire, poiché il model espone una property che è il numero di tentativi, noi vogliamo collegare questa property al testo della casella di testo txtCurrent. Questo lo possiamo dichiarare una volta per tutte, ad esempio nel metodo, no, initialize non posso, nel metodo setModel, non posso farlo nel metodo initialize perché quando viene chiamato il metodo initialize il modello non c'è ancora. Il metodo inizializza del controller viene chiamato dopo che l'fxml è stato caricato, ma ancora dentro l'fxml loader. Quindi il main non ha ancora avuto tempo di fare setModel. Quindi il metodo initialize ci può servire per inizializzare ciò che vogliamo, viene chiamato prima dell'avvio di interfaccia grafica, ma solo se non ci serve il model per poterlo fare. Invece per le operazioni di cui abbiamo bisogno del modello le dovremmo fare ovviamente dopo setModel. E quindi dovremmo dire che txtCurrent, che è il textField, ok, la casella di testo, ha una proprietà. Qual è la proprietà che mi interessa? La proprietà text. Punto. TextProperty. Qui non sto facendo getText per avere il valore attuale del testo, ma sto chiedendo il riferimento alla proprietà che determina poi il valore del testo, no? A questa property osservabile. Di questa proprietà le posso dire che voglio che sia legata, bind, a un valore osservabile. E questo valore osservabile che cos'è? Beh, può essere il model, tentativi, property. Adesso qua si arrabbia perché questo è un intero, l'altro è una stringa. Adesso lo sistemiamo, il problema è dei tipi. Il concetto è questo. Io dico a una proprietà di un oggetto dell'interfaccia collegati a una proprietà del modello. E tutte le volte che il modello modificherà questa proprietà, la vista verrà informata e aggiornerà automaticamente il valore contenuto. Adesso bisogna capire solo come fare a convertire questa cosa, se c'è un to string. Eccolo qua, string. Eccolo qua, string. No, value at prende un array. Allora, facciamo un'operazione. Sembra proprio che questa sia la risposta alla nostra domanda. C'è questo number string converter che è una classe che fa questo lavoro. che ha come primo una property. e come secondo argomento, vediamo se esiste questa classe, che c'è una sottoclasse java.fx.util.converter che ci serve per fare questo tipo di operazioni. Allora, questo è normale, nel senso che quando uno va a sviluppare dentro queste librerie così ampie, il primo passo è sapere che una certa cosa si può fare. E sapere come farla. Poi la classe specifica, il metodo specifico da cambiare, un po' te li trovi andando a studiare la documentazione, un po' te li trovi andando a studiare gli esempi su internet. Questo è il modo normale di lavorare. Io sono entrato qua un'ora fa, non essendo ancora sicuro di come si faceva questa cosa. Va bene. Posso sbagliare, possiamo tentare, ma sappiamo dove andare a cercare le informazioni. e anche in laboratorio farete così, e anche all'esame farete così, e anche quando si lavorerà si farà così. Allora, se tutto funziona, se dobbiamo credere a ciò che c'è scritto nella documentazione, non abbiamo più bisogno, non avremo più bisogno, né di questa istruzione, né di quell'altra. Perché, se è vero, se ci fidiamo, ma in realtà non ci fidiamo, lo verifichiamo, questo binding fa sì che la text property di questa carta di testo osservi continuamente le variazioni di questa tentativi property del modello. Una volta che li ho legati una volta, sono legati per sempre. Le modifiche di uno si ripercuoteranno sull'altro. Vediamo se è vero. ecco, si modifica il valore, vedete che il numero di tentativi aumenta, 3, 4, 5, ma il controller non lo sta più facendo. Questa riga, in cui il controller aggiorna i tentativi sulla interfaccia grafica, non c'è più. Ok? Quindi, se noi vogliamo che in ogni momento l'interfaccia grafica, o qualche elemento, perdono, dell'interfaccia grafica, rifletta sempre lo stato di qualche proprietà del modello, lo possiamo fare con questo meccanismo. Passati quei 30 secondi di paura in cui uno deve creare il binding e sperare che tutto vada bene, poi c'è tanto codice in meno. L'abbiamo fatto sui tentativi, potremo farlo sul numero massimo di tentativi, nmax, perché non fare un binding anche su nmax, potremo farlo sullo stato di disabled dei bottoni. Cioè, questo antipatico di controller deve passare metà della sua vita a fare set disable, set enable, set non disable, insomma, di vari bottoni. Ma in realtà, tutte le volte che il game è true, deve fare certe cose, tutte le volte che il game è falso, invece deve fare il contrario. Allora, uno potrebbe benissimo fare un binding tra l'attributo, anzi, tra la proprietà disable property del bottone nuova e la proprietà in-game del modello. La definisco come boolean property, non più come integer property, e si agganciano. Quindi, non appena il modello dirà la partita è finita, automaticamente quel bottone si abilita. Non appena il modello dirà la partita è in gioco, è in-game, quel bottone sarà set disable. A sforzo zero. Perché a questo punto diventa il modello che comanda l'interfaccia utente senza neanche conoscerla. Bello questo giochino. Un pochino più complicato è la box di gioco, perché qui vi devo mettere un set disable che non è uguale a in-game, ma è uguale al not in-game. Al contrario. Per questo deve essere disabilitato se non sono nel gioco. Vabbè, ma è quella grossa classe bindings che abbiamo visto prima, ci sarà da qualche parte un not. Si chiama negate. Calcola la negazione di un valore, questo qua è un valore nume... ah no, scusate, not. che prende una observable boolean value e crea una nuova property osservabile che sia calcolata come negazione della boolean value di partenza. Allora, io per il momento lo lascio così. Questo richiede un minimo di sedimentazione, perché è un modo diverso di pensare. Non tanto prendo il valore lo stampo quando mi serve, ma definisco delle regole sulle basi delle quali alcune parti dell'interfaccia utente si aggiornino automaticamente, o ricopiando il dato tra le quale, oppure facendo delle piccole elaborazioni su quel dato per poterlo visualizzare. Quindi, passo successivo, che potete provare a fare, poi magari tra qualche giorno farò, aggiornerò anche questo progetto con la versione completa, provare a automatizzare anche altre parti dell'interfaccia. E vedrete che il controller si snellisce parecchio, perché le operazioni più di manutenzione semplice dello stato visuale dell'applicazione scompaiono. E sono le tipiche operazioni che devo fare in più punti, perché devo sempre mantenere aggiornato. Allora, quando devo sempre mantenere aggiornato, proviamo a pensare se riusciamo a farlo fare al motore JavaFX attraverso i binding. Con questo vi lascio prendere fiato, facciamo un po' di intervallo e dopo cambiamo argomento e cominciamo a parlare di database.